L'associazione San Luca Bikers di Caltanissetta ha organizzato una bellissima iniziativa per il Natale. Siamo nel reparto pediatria dell'ospedale Sant'Elia, c'è Babbo Natale, ci sono le Nataline, tutto questo per portare un po' di allegria ai bambini ricoverati, avete anche consegnato dei doni? Sì, già fatto, abbiamo consegnato dei doni, abbiamo consegnato le caramelline, pure abbiamo regalato un sorriso a questi bambini che resteranno ricoverati per Natale qua al reparto. Speriamo di fare altre iniziative di questo genere, speriamo. I bambini ovviamente contentissimi, anche il primario è stato d'accordo con l'iniziativa. Sì, bellissima, sia per loro ma soprattutto per noi, perché queste cose le facciamo proprio col cuore, già l'associazione dei VIP e dei clown già ci conoscono, lo facciamo veramente col cuore, regaliamo questo, come diceva il Presidente, questa ondata di allegria, almeno in questo punto del reparto dove i bambini purtroppo non possono festeggiare bene. Notiamo anche le infermiere con i cappellini natalizi, hanno aderito tutti? Hanno aderito tutti, grazie a tutti, si sono messi tutti a disposizione, il primario, l'ospedale, tutti quanti, è stata una bella iniziativa che è piaciuta un po' a tutti. Tra l'associazione Bikers è l'associazione VIP Clown. Sì, VIP, Viviamo in Positivo, di Caltanissetta, un'associazione di clown terapia che è nata nel 2013. Noi ogni domenica facciamo volontariato in pediatria e oncologia, quindi qua è il nostro ambiente abituale domenicale. Ci occupiamo di clown terapia non solo negli ospedali, ma anche case di riposo, case accoglienza, dove serve portare un sorriso, dove serve portare anche un po' di serenità, un po' di allegria nel nostro piccolo, naturalmente.